Ma è sicuro? Tu as chiste ? F***, tu as ch**o. Put***, ils font ch**o, là. F***-t'enlève. C'est quoi ça ? Qui est le cinquième ? C'est nul, là. Cinquième sur cinq. Parce que je fais ça avec un spac. Pfff! non non si non e 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 t'es 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 E quindi c'è bugger il trucco? Si va restare 10 ore Si va restare 10 ore Il dure 3 km Si va restare 10 ore Alla prossima